Fare comunità intorno al teatro è l'obiettivo dell'associazione Amici del Kismet. Amici è appunto una sintesi tra le due parole Amici e Kismet. Una comunità di spettatrici e spettatori appassionati di ogni età, cultura e professione. L'associazione si è formalmente costituita nel dicembre scorso con atto notarile. Sette i componenti del direttivo, presieduto dal professore Nicola Costantino, già rettore del Politecnico di Bari ed ex presidente dell'Acquedotto Pugliese. Il direttivo ha avviato la campagna di adesione con una quota annuale minima e ha lanciato il primo dei servizi volti a favorire la partecipazione alla vita del teatro. Si tratta di bla 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 Kismet, cioè il passaggio auto-offerto su richiesta tra soci ovviamente gratuito e attraverso una chat a cui aderire liberamente. Un servizio che intende sopperire ad una delle lacune strutturali che penalizzano la periferia in cui il Kismet è ubicato. L'associazione nasce dalla presa di coscienza del fatto che noi spettatori del Kismet ci siamo accorti di essere una comunità. Abbiamo fissato delle quote assolutamente popolari, 20 euro all'anno ridotte a 10 per gli studenti under 25, quindi praticamente simbolico, lo scopo è proprio quello di far crescere il Kismet e in generale il teatro. È importante che intorno a questo l'accoglienza che è anche sinonimo di cultura debba avere uno spazio circostante intorno al quale ci sia il massimo della civiltà.